Nicola Tonetti, oggi parti dalla terza posizione, col fiato sul collo del quarto che ti parte alle spalle e che ha 45 secondi da te. Strategia della giornata? Strategia della giornata? Non fare errori e cercare di portare a casa il rally. Non bisogna fare errori, questa è la strategia. Davanti a IT Part, Cesare Gallina che non è proprio bravissimo nella navigazione e un altro pilota che ieri partiva ultimo, quindi non sappiamo bene cosa faccia lì al secondo posto, nel senso come si sia guadagnato questo posto, deve essere andato velocissimo ieri. Sì sì sì, ma no, ma spero di passarlo in modo tale da mettere un avversario tra me e il secondo in classifica, insomma. No, è divertente, è molto divertente essere all'ultima tappa e giocarsela all'ultimo, dall'idea di gara vera, spirito vero, no no. Grande, in bocca al lupo allora. Crepi. Grazie.